10 forse addirittura 15 giovani stranieri mani addosso e coltelli a serra a manico estratti dalle tasche un parapiglia che lasciato senza parole i passanti molti dei quali se la sono data a gambe poi l'arrivo delle volanti della questura sirene spiegate il fuggi fuggi generale e reso conto dell'ennesima rissa fra giovani stranieri a trieste l'ennesimo episodio violento avvenuto stavolta nel tardo pomeriggio di domenica 13 maggio teatro dell'episodio il marciapiede all'angolo fra via trento e via geppa con i protagonisti della zuffa che sono finiti anche più volte in strada tra uno spintone e un pugno con l'evidente pericolo di essere investiti sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che in un primo momento non hanno trovato nessuno da assistere nonostante le evidenti tracce di sangue sull'asfalto poco dopo sono stati deviati nella vicina via flavio gioia dove è stato trovato ormai senza forze con gli indumenti zuppi di sangue un 17enne pakistano che aveva appena subito una coltellata sotto l'ascella un punto sensibile che in caso di fendente profondo rischia di poter interessare i polmoni il giovane ospite di una struttura di accoglienza per minori a gorizia è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di cattinara la sua testimonianza è risultata cruciale per ricostruire l'accaduto il ragazzo sostiene di essere stato preso di mira da connazionali al momento però nessuno di questi è stato rintracciato la zona era stata teatro di altri episodi analoghi fra cui un'aggressione a colpi di catena al momento il movente dell'episodio violento non è chiaro